ciao benvenuto al primo video sul corso di elettronica per molto principianti in questo video vedremo tre strumenti online che useremo nei prossimi video troverai il link qui sotto in descrizione uno è dc club il quale è gratuito fino all'utilizzo di due componenti per tipo se ti registri avrai una settimana di uso completo comunque non è una limitazione all'interno di esso abbiamo diversi tipi di componenti che inizieremo poi a vedere dopo che avrai capito come funzionano i componenti questi strumenti sono il multimetro il wattmetro l'oscilloscopio che lo vedremo proprio di sfuggita perché non rientra in un corso base quindi il sito è questo su iniziare a guardarlo e a vedere i componenti poi lo vedremo meglio insieme l'altro sito è calcolino.com che servirà per capire come funziona la marcatura dei colori sulle resistenze l'altro sito è falso.com che è completamente open source quindi gratuito dove abbiamo già dentro tantissimi esempi di circuiti già fatti che ci possono aiutare a capire il funzionamento dei componenti elettronici sono meno grafici però hanno delle funzioni molto interessanti ti ripeto sotto in descrizione trovi il link di tutti e tre questi strumenti dove potrai esercitarti ci vediamo al prossimo video dove inizieremo a parlare delle grandezze elettricche ciao